Grazie presidente, in questo momento rappresento il sindaco che si trova in missione a Roma dal ministro Musumeci in relazione alla tragedia di Scampia delle Vele e in relazione alla gestione dell'emergenza. Lui ci raggiungerà penso più tardi in consiglio. Vorrei dire due parole perché sono sicura di interpretare anche un sentimento comune di quest'aula se il presidente me lo consente. Stamattina sono stati celebrati i funerali solenni di Patrizia della Ragione, di Margherita della Ragione e di Roberto Abruzzo, le tre persone che hanno perso la vita nel crollo della passerelle della vela celeste che è avvenuto la sera del 22 luglio, una settimana fa. Questa tragedia mette un peso enorme sulle spalle di una comunità di fragili, di persone vulnerabili, che ha sofferto 40 anni di abbandono e che ha saputo però in tutti questi anni trovare sempre la forma della dignità e della rivendicazione a viso aperto di un diritto fondamentale che è il diritto alla casa. Questa tragedia ci interpella come comunità, ci interpella come amministrazione, interpella Napoli e tutto il paese e ci chiede di andare avanti per quello che noi possiamo fare, cioè nell'opera di rigenerazione che abbiamo avviato con il PNRR, a completamento del progetto Restart Scampia, dell'8M di Scampia, e di farlo se è possibile con la più grande determinazione, abnegazione, perizia tecnica e affidabilità di sempre. Questo è il nostro dovere perché dobbiamo a questi morti e alla loro memoria l'impegno più totale per fare in modo che mai più a Napoli nessuno muoia di degrado. Se questo è il nostro impegno io vi porto alcuni dati rispetto alla gestione dell'emergenza. Come voi sapete la vela celeste nelle ore immediatamente successive alla tragedia è stata evacuata per consentire i rilievi necessari rispetto alle condizioni di sicurezza di questo immobile. Sapete anche che la magistratura ha sequestrato un'area della vela celeste che è l'intera verticale dove è avvenuto il crollo del 22 luglio. I rilievi vengono fatti a cura del Comune di Napoli, dei nostri uffici tecnici e con l'ausilio di tecnici esterni che ci consentono ovviamente di verificare le condizioni di accessibilità dell'intera struttura. Ci sono in questo momento circa 800 persone sfollate, la maggioranza di queste persone ha trovato riparo alla facoltà di medicina che è la struttura universitaria che come sapete sorge dove un tempo sorgeva una delle vele e in questo momento il Comune è impegnato a sostenere diciamo l'emergenza molto grave che ovviamente impatta sulla vita di queste persone che sono costrette evidentemente a stare fuori casa in questo momento con tutti i disagi del caso. Un'altra parte della popolazione della vella celeste si trova presso strutture che il Comune aveva individuato nelle prime ore dell'emergenza dove potessero appunto trovare riparo. Venerdì la giunta comunale su indicazione del sindaco ma con un atto corale di tutta l'amministrazione quindi dell'intera giunta ha preso un provvedimento che lasciatemi dire è un provvedimento da emergenza, è un provvedimento diciamo da grandi catastrofi ed è diciamo la messa a disposizione di un capitolo di bilancio che deve servire per diciamo una forma di ristoro alle famiglie che in questo momento si trovano fuori dalle loro case. Questo diciamo è un atto evidentemente emergenziale continueremo a lavorare consapevoli del fatto che da una parte stringeremo i denti andremo avanti più determinati di prima perché nei tempi previsti gli alloggi possano essere consegnati e queste persone possano avere finalmente una casa decente. Quindi questo è il nostro impegno in particolare. Nello stesso tempo in questi momenti immediati di emergenza oltre al ristoro economico che è stato votato venerdì dall'aggiunta comunale l'amministrazione farà ogni cosa nelle sue possibilità per sostenere una popolazione come dicevo prima di di persone che non trovano un accoglimento facile nella nostra città e che è il nostro dovere accompagnare nel loro percorso. È un momento di grandissima difficoltà per tutti ma chiedo ovviamente al nome del sindaco e dei colleghi assessori di osservare un minuto di silenzio per Margherita, per Patrizia e per Roberto che hanno perso la vita. Grazie. Grazie. Grazie.